Ciao benvenuto in questo nuovo video io sono Ale Lorenzi ti do un caloroso benvenuto all'interno del canale mettiti comodo perché oggi parleremo di influencer marketing da un lato e dall'altra parte di NFT due mondi che sempre più spesso si vedono intrecciarsi due mondi che sono sempre più vicini e che lo saranno per molto tempo quindi mettiti comodo e se questi contenuti ti piacciono le cose da fare sono tre sono semplicissime e sono gratuite la prima iscriviti al canale la seconda lascia un like e la terza se ti piacciono questi video scrivi altri video nei commenti e te li porterò super mega volentieri allora facciamo una doverosissima premessa questi video mi piacciono tantissimo da una parte infatti sono appassionato di NFT ho portato anche qui sul canale quelle che sono le mie esperienze investimenti ne arriveranno altri dall'altra parte sono un media buyer quindi di strategie di marketing di advertising ne conosco diverse e quando porto questi video mi piacciono tantissimo perché si fondano due mondi che mi interessano davvero tanto e che mi appassionano molto allora partiamo da una riflessione influencer marketing è un argomento che sul canale ho già trattato e che se vuoi approfondire ti invito appunto a fare un giretto sul canale perché troverai dei video molto verticali l'influencer marketing per riassumerlo non è nulla di diverso dai classici testimonial si va a corrispondere giustamente una fee all'influencer e questo promuove il nostro servizio piuttosto che il nostro prodotto o appunto un NFT l'influencer marketing non è nulla di diverso dalle classiche pubblicità che vedavamo per esempio in tv dove c'era il giocatore di calcio ancora succede piuttosto che l'attore il modello eccetera eccetera che ci consiglia un prodotto o un servizio semplicemente da testimonial marketing siamo passati all'influencer marketing perché l'influencer è una professione ormai esplosa nel senso che è sulla bocca di tutti tutti noi sappiamo che cos'è e anche con l'avvento dei social ci permettono chiaramente i social di avvicinarci molto di più alla quotidianità delle persone a quello che fanno eccetera eccetera e questo ci permette chiaramente di creare un rapporto di fiducia e anche di curiosità in queste persone in questi influencer e quando loro ci promuovono un prodotto o un determinato servizio ovviamente se abbiamo una certa vicinanza saremo interessati o quantomeno incuriositi quindi l'influencer marketing non è altro che andare a farsi aiutare attraverso gli influencer a veicolare un prodotto o un determinato servizio incontra la fiducia e il trust che una persona quindi in questo caso l'influencer ha costruito su un audience, un pubblico appunto i suoi follower su Instagram, su TikTok piuttosto che su YouTube con le strategie di marketing mettere il giusto prodotto davanti al giusto mercato, nulla di più è una strategia vecchissima che ripeto una volta erano i testimoni al marketing adesso semplicemente è l'influencer marketing tutto questo perché te lo sto dicendo? Perché ovviamente l'influencer marketing trova sfocio in diversi business vedi ad esempio gli e-commerce quante volte magari ti è capitato di seguire l'influencer che ti piace e che lui ti ha promosso magari degli integratori, un prodotto o piuttosto una marca di abbigliamento, un brand di abbigliamento quindi per esempio gli e-commerce piuttosto che i servizi eccetera eccetera e trova sempre più impiego anche negli NFT, NFT che letteralmente stanno esplodendo anche in Italia se ne parlo ormai da tantissimo tempo, da tantissimi mesi in Italia siamo chiaramente ancora molto indietro rispetto alla diffusione che gli NFT si pensa che raggiungano sempre più aziende da questo canto, sempre più brand, magari ti porterò qualche analisi di marketing di alcuni brand anzi fammelo sapere con un commento sempre più brand si stanno affacciando a questo mondo degli NFT e tra le diverse strategie che voglio analizzare quindi le porterò sul canale che i brand stanno utilizzando per raggiungere il pubblico meno consapevole che nella piramide della consapevolezza ti ricordo occupa la parte inferiore quindi lo zoccolo più ampio sai che nel marketing c'è la piramide della consapevolezza più andiamo nel punto alto della piramide più le persone sono consapevoli di avere un problema e di aver bisogno di una soluzione ovviamente è la fetta più fina, chiaramente pensa alla piramide quindi la punta è proprio la parte più piccolina mentre alla fine nello zoccolo duro della piramide, nelle fondamenta abbiamo tutte quelle persone che magari non sanno nemmeno che cosa è un NFT, nemmeno sanno che c'è questa opportunità e occupano la fascia più larga quindi ovviamente i brand sia per veicolare le loro proposte sia per veicolare i loro progetti eccetera eccetera si fanno aiutare dagli influencer per riuscire a raggiungere questa fetta della popolazione ancora inconsapevole e ripeto in Italia è grandissima questa fetta riguardo al mondo degli NFT, riguardo alle opportunità e riguardo anche al fatto che questo brand che magari amano e che già seguono per diversi motivi stanno lanciando appunto gli NFT e quindi si fanno aiutare dagli influencer per riuscire a raggiungere queste persone il più velocemente possibile e ovviamente l'influencer marketing non si tratta solo di raggiungere una persona a un pubblico ma di cavalcare anche la fiducia che questo influencer ha costruito in quel pubblico pensa a una Chiara Ferragni, se un brand si rivolge a una Chiara Ferragni non si rivolge a lei solo in qualità di Chiara Ferragni ovviamente anche si, si rivolge a lei proprio per farsi aiutare nella divulgazione di un brand, di un progetto cavalcando quindi il pubblico che si fida di Chiara Ferragni questa è una importante sottolineatura da portarsi a casa l'influencer marketing non è promuovo questo tappo per la fotocamera a un pubblico ma promuovo questo tappo per la fotocamera a un pubblico che si fida di quelle influencer e qui c'è una grandissima differenza perché ovviamente il fatto che ad esempio rispetto a una campagna velocitaria che si muove su un pubblico a freddo il fatto di sfruttare un influencer sfruttare ovviamente nel senso buono della parola va anche a eliminare eventuali frizioni in fase di acquisto o nel caso di NFT in fase di minting o appunto di acquisto quindi il mondo degli NFT sta sempre più andando in cerca di questi influencer influencer in diverse nicchie perché? Perché ci sono gli influencer ad esempio su YouTube magari ti è capitato già diverse volte di vedere qui dei canali che trattano crypto, NFT, blockchain eccetera eccetera quindi progetti NFT che pagano l'influencer per promuovere il proprio servizio piuttosto che su Instagram, piuttosto che su TikTok e c'è una diffusione sempre più rapida perché? Perché se non lo sapessi a livello di advertising qui ti parlo proprio da Media Buyer la nicchia finanza, la nicchia crypto ha un CPM molto alto vale a dire che per raggiungere le stesse persone che un influencer può raggiungere e oltretutto tenendo in considerazione che quelle che possiamo raggiungere magari sono più fredde rispetto a quelle che come ti ho detto poco fa vengono raggiunte da un influencer rompendo anche queste frizioni costerebbe molto di più a un brand l'investimento sarebbe sicuramente superiore se noi andassimo per esempio a vedere quanto un influencer può raggiungere supponiamo 4.000 persone se quelle 4.000 persone le portiamo nelle campagne pubblicitarie considerando il CPM che può essere molto alto e considerando anche che il pubblico è freddo beh ci costerebbe molto di più magari anche come FII è uguale però riparliamo di un pubblico meno frizionato perché si fide della persona da un lato e dall'altro abbiamo un pubblico da conquistare perché ci sta vedendo con le campagne pubblicitarie ovviamente i brand, quelli più audaci usano entrambe le strategie non usano solo queste appunto magari te le racconterò all'interno di questa playlist legata al marketing e agli NFT ovviamente è una strategia quella di usare gli influencer marketing soprattutto già conosciuta in altre nicchie come ti dicevo sicuramente già testata e sicuramente dà dei risultati a patto che beh ci sono alcune considerazioni da fare a patto che si studia attentamente l'influencer che andiamo a scegliere quindi che abbia dei dati veritieri che non abbia bot che non abbia acquistato i follower quindi che sia pieno magari di ghost follower quindi vende un servizio che però poi ha un engagement ridottissimo questo possiamo analizzarlo con diversi servizi tool che se vuoi ti racconterò qui sul canale la fidelizzazione del pubblico vedere se ha già promosso determinati servizi d'altro canto l'influencer come si può comportare relativamente agli NFT beh lì ovviamente dipende dall'influencer potrebbe scegliere qualsiasi progetto che gli viene promosso e ti assicuro che di influencer marketing nel mondo degli NFT ce n'è tantissimo sono veramente tantissimi i progetti NFT che cercano influencer per creare un discord creare comunque un audience bella carica e tanto hype quindi tanta curiosità e entusiasmo riguardo al progetto è veramente una richiesta altissima quindi dall'altro canto ci sono questi influencer che sono riempiti di richieste e beh lì dipende dall'influencer stesso decidere quale eccitare e quale invece rifiutare ci sono progetti nobili sugli NFT io appunto ne ho aumentati diversi che mi stanno dando soddisfazioni ma ci sono anche delle scam quindi anche l'influencer stesso a sua discrezione dovrà fare quella che è un'analisi per comprendere effettivamente se il progetto NFT che vuole promuovere e sponsorizzare il suo pubblico sia valido oppure meno perché dal lato negativo dell'influencer è che lui chiaramente per promuovere questo progetto ma così come sarebbe un servizio o un prodotto di e-commerce ci mette la faccia e quindi ovviamente se promuove dei servizi dei prodotti scadenti ci perde la faccia su un pubblico che magari gli è richiesto mesi anni per costruire quindi sì o no questo influencer marketing per concludere questo video assolutamente sì gli NFT non sono altro che un'altra applicazione dell'influencer marketing l'influencer marketing come strategia si vede impiegata ormai in diversi settori te ne ho citati alcuni gli e-commerce, i servizi piuttosto che altro l'affiliazione eccetera eccetera quindi era anche prevedibile che incontrasse il mondo degli NFT perché ripeto sono nicchie con CPM davvero importanti quindi i brand hanno tutti gli interessi di cavalcare di influencer marketing di arrivare molto più velocemente a un audience e d'altro canto ripeto è una strategia di marketing che se andiamo a vedere proprio i fondamentali del marketing neanche digital marketing esiste da una vita che sono altro che i testimonial marketing quindi attori che ci promuovevano il bagno schiuma piuttosto che il rasoio eccetera eccetera oggi trovano un'applicazione nei social e quindi è nato l'influencer e quindi diciamo il marketing ha avuto la sua evoluzione con l'influencer marketing quindi strategia assolutamente promossa se vuoi altri video come questi in verticale dove andiamo anche a analizzare delle strategie di brand che si sono mossi eccetera eccetera fammelo sapere con un commento da Ale Lorenzi è tutto e ci vediamo nel prossimo video ciao